C'è una svolta nelle indagini sull'uccisione di Emanuele Tufano, il 15enne che ha perso la vita durante un conflitto a fuoco tra bande di minorenni avvenuto nei pressi di Corso Umberto nella notte tra mercoledì e giovedì. Ci sono due indagati, entrambi minorenni, che nel corso dell'interrogatorio hanno spiegato di aver replicato al fuoco e riparandosi dalla raffica di proiettili dietro a un'auto, uno dei due ha centrato alla schiena Emanuele Tufano colpendolo a morte. Una svolta investigativa nel corso delle indagini della squadra mobile del primo dirigente Giovanni Leuci, nel corso di un'inchiesta coordinata dal PM dei minori Daniela De Luca, dal PM Antica Morra Celeste Carrano e dal PM ordinario Maurizio De Franchis. I due ragazzi sono sotto inchiesta e dopo aver trascorso diverse ore in questura sono stati rilasciati la scorsa notte, rispondono di armi ma non di omicidio e il loro racconto contribuisce a chiarire cosa è accaduto giovedì notte a Napoli. C'è stato uno scontro tra bande di giovanissimi in scooter, probabilmente per rimarcare la propria leadership sul territorio in una sequenza drammatica. Secondo il racconto dei due minorenni ascoltati, la banda avversaria si è rappresentata con almeno otto scooter, quindi 15-16 ragazzi che hanno iniziato a sparare. I due hanno abbandonato a terra a loro volta lo scooter e hanno cercato riparo dietro un'auto. A quel punto uno dei due ha iniziato a sparare e ha colpito dietro la schiena Emanuele Tufano uccidendolo. Per ora i due minorenni se la sono cavati con una denuncia a piede libero, in uno scenario in cui si valuta la legittima difesa. Le indagini sono in corso al vaglio degli inquirenti e anche un filmato ricavato dal sistema di videocontrollo della zona. Immagini che confermano la pista del conflitto a fuoco, ma che conferma anche la complessità della scena.